Grazie Presidente, ringraziamo di aver presentato questa mozione e annuncio il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, sottolineando quanto Fabrizio Frizzi sia stato anche importante perché è entrato nelle case degli italiani e molti gli hanno voluto bene. Abbiamo visto la grande manifestazione da parte di tutti i cittadini romani, abbiamo visto le persone quanto a lui sono state vicine, io credo che oggi il fatto che l'Assemblea Capitolina, per cui Roma, visto che noi rappresentiamo anche la città, dedichi questa attenzione e voglia riconoscere questa persona che come è stato detto è stata una persona generosa, una persona comunque in qualche modo anche semplice e nel ruolo che comunque lui aveva non è semplice trovare persone che manifestino in qualche modo alcune virtù, alcune virtù importanti, per qui noi voteremo favorevole perché sappiamo che è giusto farlo. Grazie Presidente.